buongiorno ragazzi oggi sono in valsassina precisamente sopra cainallo al parcheggio di moncodeno e vi porterò a percorrere la cresta piancaforma che porta in cima alla grigna settentrionale non perdiamo altro tempo iscriviti al canale metti tanti like e andiamo a percorrere insieme la cresta grazie a tutti 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 alla prossima ciao 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 grazie a tutti grazie a tutti